La New Basket Brindisi E se la squadra brindisina deve dimenticare la sconfitta con Imola, ma durata dopo una gara che la squadra bianca-azzurra aveva dominato per buona parte della durata, Ostuni non è da meno dopo i 18 punti che gli sono stati rifilati a Pistoia durante una partita nella quale invece la squadra gialloblu non è riuscita ad imbrigliare più di tanto Pistoia ed ha mantenuto solo nel primo quarto. L'appuntamento è di quelli immancabili con la presenza all'interno del Palapentassuglia del telecronista Franco Lauro che ritorna quindi dopo tre anni a parlare di Brindisi sul campionato di Lega 2 ed il commento di Stefano Michelini. Ostuni risulterà squadra ospitante nonostante il palazzetto sia quello brindisino a causa dei lavori che si protraggono di adeguamento nella struttura ostunese a quello che è il regolamento di Lega 2. Negli scontri diretti ufficiali per la Lega 2 parità assoluta tra Brindisi e Ostuni che hanno vinto una gara per parte nelle partite di Coppa Italia. Ingredienti per una partita interessante ci sono tutti. Adesso toccherà a squadra ed allenatori fare la propria parte. Grazie a tutti.